salve a tutti gli andati e benvenuti nella puntata finale diciamo di tutta la mia serie su Megamanix Legacy Collection 1 e 2 allora se vi ricordate nell'episodio scorso avevo detto che avrei fatto un altro episodio bonus per Megamanix 8 per far vedere tutte le cose sbloccate nel New Game Plus il fatto è che non c'è abbastanza contenuto nel New Game Plus per far vedere tutto quindi cioè per far vedere altre cose in generale quindi quindi non posso fare un altro video su quel gioco però posso fare un video sugli altri giochi di Megamanix posso farvi vedere il contenuto che sblocchiamo negli altri giochi appunto quindi Megamanix 4, Megamanix 5 e Megamanix 6 che avevano dei contenuti segreti nascosti dietro un codice che si metteva nello schermo del titolo così come i navigatori in X8 oppure questi probabilmente li metterò nella descrizione sono abbastanza facili questi perché sono principalmente cioè c'erano solo due personaggi quindi sono solo due codici per gioco e sono più o meno uno all'opposto dell'altro diciamo lo vedrete voi allora iniziamo con Megamanix 4 che versione ho selezionato non mi ricordo ovviamente questi sono validi in tutte le versioni dei giochi quindi io adesso lo faccio nella versione inglese perché è quella che probabilmente giocherete voi non so quanti conoscono il giapponese abbastanza per fare la versione giapponese però se vado nella versione giapponese non so perché hanno cambiato lo schermo del titolo così così tanto in questo gioco e tra l'altro ah ma pensa in questo in questa versione hanno cambiato il tasto di conferma e allora qui ci sarebbe da fare tutto il discorso che in giappone il tasto per confermare una scelta sulla playstation non è X non è croce ma è cerchio secondo me ha più senso così secondo me dovrebbe essere così sarebbe dovuto essere così anche in America e quindi in Europa però non è andata così per qualsiasi ragione non so perché hanno deciso di fare così in America infatti pare che ci sia pure un problema simile con la PS5 a proposito della PS5 io non l'ho presa e non penso di prenderla ancora fino a che non ci sarà un gioco abbastanza interessante sopra non c'è niente che mi interessi piccola parentesi allora comunque i codici i codici che metterò sono gli stessi nella versione inglese nella versione giapponese allora quindi noi dobbiamo andare su game start selezionare mettere il cursore su mega in X e poi premere cerchio cerchio sinistra 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 6 volte e poi tenere premuto LR e premere start saltare i filmati qui tutto quello che abbiamo già visto però ci interessa vedere X come sarà quando arriverà non è del colore giusto l'ho sbagliato allora game start cerchio cerchio L1 R2 start provo a renderle le cose più più extra eccolo qua allora avete la conferma che il codice è giusto se X ha il corpo viola e non blu questo ovviamente non è l'ultimate armor l'ultimate armor è completamente diversa però se voi arrivate in qualsiasi livello e prendete una capsula dell'armatura vedrete che X ha l'ultimate armor cioè una capsula dell'armatura qualsiasi ovviamente è più consigliabile prendere la capsula che sta nel livello di web spider la capsula delle gambe perché è la più semplice da raggiungere da raggiungere e l'ultimate armor è uguale alla fort armor solo che può usare il nuova strike all'infinito e probabilmente questo lo vedrete in X5 solo che per fare X5 mi tocca interrompere la gestrazione ovviamente sapete devo cambiare la collezione quindi ci rivediamo in X5 eh no un attimo devo prima far vedere Black Zero allora quindi la ultimate armor è uguale alla fort armor all'armatura che ha X in questo gioco Zero è leggermente più è leggermente diverso allora il suo codice è R tenere premuto R poi premere destra, 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 destra rilasciare R tenere premuto Ferti e premere Start di sicuro pure questo sarà sbagliato vedete che adesso è rosso però non fateci caso perché non cambia mai il colore vedete che adesso è nero dicevo che è più particolare questa versione di Black Zero perché non ha nessuna differenza Black Zero in questo gioco è identico a Zero normale mentre in X5 ha delle abilità migliorate qui è semplicemente Zero e i menu continuano a riflettere questo cambiamento non so perché Capcom sei pira e mettici lì nelle differenze no? vabbè allora quindi Zero Black Zero in questo gioco è uguale a Zero normale niente di che passiamo adesso a X5 quindi ci rivediamo nella seconda Legacy Collection ok sono qui nella Legacy Collection 2 quindi andiamo in X5 il solito discorso di X4 funziona in tutte le versioni questi codici e questi codici sono molto più facili e infatti me li ricordo a memoria non ho bisogno di andarmeli a vedere solo che non mi ricordo effettivamente per chi sono esattamente ok sentite qua la musica dell'intro che si presenta nel tenito non l'ho mai fatto sentire però è così allora selezionate X e premete su due volte e giù nove volte sentirete questo questo suono e poi mi tocca guardare tutto il filmato perché qualcuno non hanno affatti saltabili i filmati grazie tante Capcom sempre mi rendi le cose facili eccolo qua X adesso ha direttamente la ultimate armor ovviamente c'è sempre Elia che dobbiamo evitare a tutti i costi ma non possiamo evitare allora l'ultimate armor in questo gioco è uguale a quella precedente o quasi almeno cioè non sono sicuro di cosa è diverso tra le due versioni il giga attack adesso è R2 e noi possiamo fare il nova strike all'infinito da terra o in aria è uguale il nova strike è invincibile X non può ricevere danno mentre lo esegue e ovviamente fa tantissimo danno l'avete pure vista in realtà la ultimate armor in X5 nell'ultimo episodio perché in questo gioco questo è l'unico gioco in cui è possibile ottenerla tramite vie legittime nello stesso salvataggio in X8 bisogna aspettare una seconda partita oppure usare un codice e negli altri due giochi non si può ottenere nel file è un peccato sarebbe stato bello se X4 fosse inclusa normalmente guardate un po' in questo gioco X è diverso quando c'è la ultimate armor ce l'ha un ritratto personalizzato perché come gli altri no non si capisce forse non lo so allora vediamo se Xero pure ce l'ha Xero ovviamente non ha la ultimate armor ma con lo stesso codice al contrario veramente perché giù due volte e su nove volte noi possiamo usare in teoria Black Zero che in questo gioco è diverso da come era in X4 lo vedremo dopo sempre aver visto tutto il filmato ricordatevi sempre che scegliere Zero all'inizio di questo gioco è una pessima idea ricordatevi sempre che dovete scegliere X perché X si prende la forte armor e Zero si prende il Zeta Buster che non ho mai fatto vedere in X5 in XE è potentissimo qui guardate quanto tempo c'è a sparare patetico assolutamente disgustoso allora invece Black Zero non è disgustoso Black Zero è bello Black Zero ha il port e il ritratto personalizzato Black Zero ha gli effetti viola quando scatta ha la spada viola che guardate quanto ci sta bene non riceve contraccolpo dai nemici e credo che abbia il doppio della potenza offensiva di sicuro avrà qualche altra differenza che mi sto dimenticando però queste sono quelle più evidenti quindi Black Zero in questo gioco è un miglioramento rispetto a Zero normale in generale questi codici sono più utili di quelli di S4 già solo per il fatto che Black Zero è diverso però ripeto in questo gioco si possono ottenere i personaggi migliorati nel livello in un nel cos'è penultimo livello mi sembra sì quindi questi codici sono lì solo se si può ottenere il gioco prima ah e adesso passiamo ad un gioco bello passiamo a Link 6 ok allora non si fanno così i codici perché vanno fatti sullo schermo del titolo dunque quali sono i codici il codice della Ultimate Armor è sinistra 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 destra sentire questo suono per confermare che l'abbiamo scelti bene questo gioco ci permette di saltare i filmati un aspetto in cui XE è migliore di X5 chi l'avrebbe mai detto guardate X quanto è bello con questa Ultimate Armor nera non lo so a me piace di più di quella di X5 ovviamente uguale a quella di X5 è la porta Armor vedete che non l'ho fatto vedere negli altri giochi però è in grado di planare è in grado di effettuare lo scatto aereo riduce il danno ricevuto riduce il riduce il consumo di munizioni per le armi speciali a differenza della Falcon Armor la Falcon Armor non mi ricordo più cosa se lo riduceva il consumo delle armi speciali ovviamente ovviamente in questo gioco ha la Z Saber e ha il Giga Attack infinito chissà se con questa armatura il gioco diventerebbe più facile no no non credo questo gioco ha tanti di quei problemi che l'out and armor non basterebbe però almeno è bello quando ce l'ha anche se non capisco perché l'oro non è saturato come era prima ok quindi per X è tutto e ora è passato un codice che io non so come funziona perché c'è il codice dei Black Zero in questo gioco ma Black Zero non è sbloccato dall'inizio e quindi come come si fa vediamo allora L1 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 R2 e ovviamente compare X con Falcon Armor cioè Zero Black Zero dovrebbe essere disponibile solo quando si sblocca Zero vabbè comunque visto che questo gioco purtroppo non ha un modo per utilizzare Zero dall'inizio non posso effettivamente vedere come è Black Zero in questo gioco comunque immagino che sia uguale a come era in X5 più o meno quindi una versione ancora più povente di Zero Zero già in questo gioco è una bestia in X5 tipo quindi mi immagino Black Zero che sarà forse dovrei giocare X5 per vedere no assolutamente no X-Ray è proprio un gioco che deve bruciare per quanto mi riguarda e a questo punto perché no facciamolo vedere l'extra della della Legacy Collection la X-Challenge con questa musica allora la X-Challenge praticamente ci mette contro due boss quello è il mio ID Online in Dario Zero che cosa è questa modalità praticamente ci mette appunto contro due boss da uno qualsiasi dei primi dei primi sei giochi di MegaVenix quindi tutti tranne X7 e X8 perché X7 e X8 non sono in 2D e avrebbero dovuto trovare un qualche modo per renderli in questo gioco sarebbe stato bello se lo avessero fatto però non l'hanno fatto e cosa possiamo fare in questa modalità noi possiamo scegliere una qualsiasi noi possiamo scegliere tre armi tra questa lista e poi dovremmo fare uno di questi tre livelli tutti e tre questi livelli con le tre armi vedete inoltre che scegliendo l'arma cambia X vedete che adesso è X senza armatura con l'artwork di X7 però scelta malissimo se posso dire e diventa questa strana armatura basata sull'ultimate armor che non è l'ultimate armor se noi selezioniamo un'arma credo che l'armatura sia una sorta di ultimate armor modificata per poter utilizzare tutte e tre le armi quindi se in caso noi dovremmo scegliere tre armi in questo caso c'erano la spin wheel poi vedo che c'è la spin wheel per wheel gator ovviamente non possiamo utilizzare tutte le armi dobbiamo scegliere il boss contro cui siamo meno capaci e scegliere un'arma per quello in questo caso ripeto spin wheel far wave e sonic slicer non garantisco niente perché non ci ho mai giocato questa modalità potrei un giorno considerare l'idea di almeno giocarci per conto mio faccio una serie non credo perché sapete quante volte non direi sarebbe una cosa assurda però ecco qua noi siamo questa ultimate armor che può utilizzare la zeta saber quindi è basata su x6 spero che sia possibile in qualche modo cambiare cambiare i controlli perché a me non piacciono questi controlli a me non piace avere come si dice lo scatto su cerchio è una cosa a cui sono completamente disabituato comunque questo questa coppia di boss non è troppo difficile in realtà perché cross walrus e chill penguin sono entrambi abbastanza facili ah e inoltre possiamo caricare l'arma un'altra cosa credo che noi recuperiamo vita tra uno scontro e l'altro però non so esattamente se è una caratteristica solo di un solo di una difficoltà specifica e anzi credo che in modalità normale non non recuperiamo vita addirittura come vedete ripeto io non ci ho mai giocato si vede in teoria li dovrei saper fare questi boss visto che li ho fatti abbiamo un numero limitato di vite vedete là erano due adesso è una e abbiamo un tempo limitato che vabbè non è un problema perché i boss non non richiedono troppo tempo per essere sconfitti comunque immagino che questa modalità potrebbe essere divertente se per alcune persone almeno per me l'idea di mettere due boss insieme non è proprio buona perché ci sono dei boss che non sono assolutamente fatti per essere messi insieme i boss sono per definizione fatti per essere affrontati da soli perché sono pericolosi abbastanza e mettermi contro due boss allo stesso tempo che attaccano contemporaneamente renderebbe le cose non poco scomode inoltre non capisco veramente perché x è così strano il suo colore soprattutto quando usa le armi inoltre altra cosa stranamente frost war non è debole contro la fire wave secondo me avrebbe avuto senso se armi dello stesso elemento avessero infitto danno danno superiore contro boss deboli contro quell'elemento nei altri giochi ripeto in caso di frost war rus qui frost war era debole contro il rising fire essendo boss di ghiaccio potevano farlo debole contro la fire wave noi sconfiggendo uno dei due boss lo eliminiamo ovviamente sconfiggendo l'altro finiamo il round e non so non so onestamente se io adesso uscendo perdo i progressi perché questo in realtà è il livello uno e io uscendo perderei i progressi nel livello quindi ah ecco posso configurare i controlli allora direi che qui finisce il video perché questa è una cosa che va oltre i giochi ripeto potrebbe essere una cosa che io farò in futuro non so se farci una serie non so in caso se farò una serie su questa su questo uno o sull'altro perché sono uguali in teoria probabilmente continuerò sul volume uno prima e poi vedrò in caso non so ah e tra l'altro non recupero la vita in modalità normale ma che è sta cosa non è bello comunque direi che per questo video e per tutta la maratona di meta è la fine perché ho visto quasi tutto il contenuto di tutti i giochi quindi direi che può andare così quindi se questa serie vi è piaciuta se questa maratona vi è piaciuta commentate lasciate un like iscrivetevi conditete il video per farlo conoscere agli altri non mi ricordo più l'ordine delle cose comunque se questa serie non vi è piaciuta commentate comunque dicono che possono errare il contenuto e noi a questo punto si spera ci rivedremo nel primo episodio di Megan in X3 quindi eh vabbè X3 0 3 quindi niente ciao a tutti